Mamma in piazza a Boario questa domenica per il terzo flash mob in Valle Camonica per l'allattamento al seno. L'iniziativa rientra in una manifestazione a livello nazionale che ha portato e porterà in piazza mamme di tutto il paese per dire che allattare al seno è bello, ma soprattutto salutare e che fare rete fra mamme può dare un aiuto significativo a tutte. Il tema di quest'anno, su cui sensibilizzare l'opinione pubblica, è quello dell'allattamento e lavoro, perché, dicono gli organizzatori, tutelare la madre lavoratrice è il primo passo per una società migliore. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di far capire a più persone che l'allattamento materno è la cosa migliore per i nostri bambini e fare in modo che più mamme possano allattare felicemente e possibilmente anche a lungo. Questo perché? Perché molto spesso capita che le mamme non siano supportate nei problemi che possono riscontrare durante l'inizio dell'allattamento e quindi abbandonano e passano all'atte artificiale. Il tema della SAM, della settimana dell'allattamento materno di quest'anno, è allattamento e lavoro, per far capire anche che lavorando è possibile continuare ad allattare i propri bambini. L'obiettivo della SAM è anche quello di far conoscere le mamme tra loro e quindi fare in modo che le mamme possano condividere le loro esperienze. È il terzo flash mob che viene organizzato in Valle Camonica. Il primo anno è stato fatto a Pisogne, l'anno scorso a Malegno. Quest'anno abbiamo scelto Darfo e il riscontro è abbastanza positivo, a parte il tempo di oggi. Comunque un po' di mamme stanno arrivando e tendiamo a spostarci in modo da raggiungere un po' tutta la valle. Vediamo che il riscontro c'è, soprattutto anche da parte di alcune mamme, che in questo modo possono trovare l'ostetrica piuttosto che una consulente particolare per determinati problemi. Quindi pensiamo che sia una cosa utilissima. Abbiamo anche pensato di organizzare una sorta di tavolino dei libri a tema, quindi che riguardano non solo l'allattamento ma l'accudimento dei bambini, poter tornare a lavorare nonostante si allatti, nonostante si abbia un bimbo piccolo, e anche libri ad hoc per bimbi. Si possono comunque contattare le mamme in ogni momento tramite il gruppo Facebook Mamme di Valle Camonica. L'evento riguarda tutta Italia. Questo evento è in collaborazione con la Mami.org che organizza eventi di questo tipo in tutta Italia, cioè sponsorizza eventi di questo tipo organizzati in tutta Italia. Per esempio a Brescia c'è stato ieri, poi ci saranno nelle grandi città d'Italia, a Roma, a Siena, a Milano.